Ciao a tutti buoni sono Marcio e benvenuti in questo nuovo video sul canale Oggi ragazzi siamo nella mia vanilla nell'episodio 191 E non sono da solo perchè il mio compagnio c'è il buon Marco Ciao Marco Ciao Allora ragazzi come ben vedete ci troviamo sulla piattaforma nel quale avevo fatto la nostra fantastica mob farm Il mob grinder essenzialmente L'abbiamo buttato tutto giù fino adesso ragazzi Perchè proveremo a rifarlo con i lati dispari essenzialmente come c'è la Marco nella sua vanilla Perchè questo? Perchè su questo server ragazzi non funziona Non funziona proprio abbiamo provato ovunque in live Abbiamo provato vicino all'extreme hills non andava e sapevamo il perchè Abbiamo provato nella mesa abbiamo provato nell'acqua abbiamo provato l'uno Non funziona speriamo che questa sia la volta buona Quindi iniziamo subito buon Marco mettiamoci a fare le cose Ovviamente facciamo gli sboroni io ho preso un sacco di stack di ferro e lo faremo col ferro Dimmi l'altezza per bene di quanto vogliamo Eh facciamo l'alto 30 da qua 30 facciamo ok Che bello quando non si prende danno eh Così Chi è la ritorcia fra? Sì ne ho tipo uno stack e 46 Aspetta passamene un paio che metto qua giù così non spara niente Ok va bene Io ti seguo fino a dove ridi Sette Ciotto C'è nove Venti Eccola che il 30 è indicativo perchè tecnicamente muoiono al ventisesimo blocco Eh infatti Ok Comunque di per sé il nuovo gridere Cioè Eh 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 Ok Vabbè No mi sono tipato Dai Tipati va Il mob grinder di per sé E che cazzo Il mob grinder di per sé È una cagata costruirlo È proprio Vabbè ma infatti l'ho fatto 60 volte l'ho fatto Però non è che funzionava tanto Cioè madonna Perché siete bugato secondo me Ormai stavano in l'acqua Questo mondo qua è bugato Non hai visto i colori quindi Secondo me è bug Ti giuro Secondo me si è bugato veramente il mondo Perché è impossibile che non vai È così semplice fare il mob grinder Cioè Allora c'era un errore Te l'ho detto L'era che era alto 3 Che non si fa mai alto 3 Perché è inutile Vabbè però comunque non è quello che ti comporta Alla fine Alcuni fan mi hanno detto Marci guarda che Non hai messo gli slab sopra È vero Non li avevo messi Però l'ho messo le torce Se tu metti gli slab Non ti spawnano sopra i mob Metti le torce E ha messo le torce Uguale Quanto siamo? 30? Sì Eh sì ma è classico Eh sì Poi i blocchi di forro È più facile contare Perché avete meno dettagli 7 8 e 9 Sai che non so se basta Non ti stacca A parte che ne ho ancora un sacco Per carità No neanche un tot vecchio Quindi Tu quanti ne hai? È tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 stacco 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 E si butta questo Ok quindi adesso possiamo fare Tu hai l'acqua vero? Tutto il vario Sì sì ne ho Due secchielli Quindi possiamo farla farm infinita Eh fai infatti Fai la fonte Ok aspetta Fai i tuoi lati adesso Sì sì Qua si deve salire quindi Ma qua devi salire due E poi sul Sì sì guarda di due Così bravo Volevo già fare tipo una piccola piattaforma Così piazzo la farm La cosa infinita Ok guarda Faccio tutto per bene qua Però la faccio con la stone La roba infinita Ma la fa sotto La farm infinita Qua dove c'è la caduta Perché tanto qua Non ci deve mai cadere Ah già è vero Sì infatti è vero Facciamo così E facciamo così Ok Guarda che bravo che sono Madonna Troppo Sei un piccolo cileno No i cileni No noi siamo minatori Noi siamo Perché non possiamo usare materiali così nobili È vero in effetti Il buon tizio non userebbe mai queste cose Ok guarda che bello Abbiamo già fatto una parte Facciamo anche l'altra parte Però se mi metti le torce qua Queste qui andranno verso il centro Perfetto Brave torce Brave Ok guarda 0-3 creeper mi dicono In pochissimi secondi arriva Di sicuro qualcuno è da ammazzarci Ma si tanto qua puoi esplodere qualsiasi cosa È ferro È ferro In effetti sì Ma puoi essere così ricco Dio fa Eh almeno quello Lasciamolo una cosa No no Aspetta Ok Lascia un buco qua Lascia un buchino Lo faccio io Ah per salire Sì ma l'ho già fatto Ok Dai fammi salire però È tutto a posto l'acqua Sì adesso possiamo riprenderci La nostra fonte Facciamo così Dovrebbe in teoria Ma Già che c'è a sto punto Dopo se abbiamo i materiali Possiamo fare anche lo smistamento automatico Sì in teoria dovremmo riuscire a farlo I filtri Se funziona Se funziona Eh Eh Io non ne sono più certo Se funzioni o meno Perché guarda Lasciam perdere Vabbè comunque qua Facciamo anche l'altezza già no L'altezza è già da quel blocco qua Sì L'altezza sì da lì Devi fare 2 più il terzo Che è il suo filo Io faccio di 3 Più 6 Aspetta possiamo anche farla di 2 Senza sprecare l'ultima fila Sì esatto 2 Allora ragazzi abbiamo fatto tutto il contorno Ci manca questa roba cosa Se vuoi iniziare a fare il soffitto Io faccio qua Dai tranquillo Tu fai il soffitto intanto Che io faccio Ah tu fai Ok io faccio il soffitto Allora bene Sì sì Tanto non cambia niente Sempre lì inti siamo Ok Guarda un po' No blocchi ragazzi ci bastano A parte che basterebbe aspettare un giorno e mezzo di A parte che ragazzi Non ve l'ho detto Ma la farm di ferro è tutta piena Cioè è completamente tutta piena Tutta C'è la cesta Non perché Non perché l'abbiamo messa nel Nel chunk di spawn Assolutamente no Ah ma va Ma stai scherzando Ok guarda che bravi Anche qua manca Sì manca tipo 3 blocchi Ok Ok E ok Fatto anche questo E dai Torcia Ok Comunque piccolo Con il suo che ti do Mettili tipo agli angoli Tappali Cioè tipo mettili Per la luce Una roba del genere No no non per la luce Perché tipo alcuni mob Tipo creeper Si bloccano lì negli angoli Una cosa Allora il buon Simo L'altro giorno mi ha detto Però Perché ti fai Firework rocket 3 Tu li fai di duration 3 Cioè i flight 3 Anche lui Invece lui li fa da 1 Ma ha detto che li fa da 1 Non ha senso Sai che Effettivamente Adesso li sto facendo da 1 Ultimamente Non è così negativa Come cosa Perché se ci pensi Tu basta che vai un po' in alto È vero che vai molto più lento Poi eh Però vai in alto Ti lascia andare E alla fine Alla fine ne usi Un po' di meno Te lo dico Cioè effettivamente Non ha tutto Ma a me è tanto Dragon powder che Che faccio E infatti io la vorrei Dragon powder Weee Woo Woo Fatta Ok Trevirebbe Una bella farm di creeper A parte che Eh vabbè dai Un po' la facciamo Allora Ho bisogno di legno Sai che legno non ne ho Perché l'ho finito L'ultima volta per il progetto Che dovevo fare E mi sa che Forse l'ho messo No Senti dove ce l'ho Qua No esattamente 64 Me lo ricordavo Pienissimo Sono proprio bravo Poi faremo anche un design Per questa farm di pesca Che è bellissimo Tu c'hai la farm di pesca? 30 episodi fa Che poi è verità La moda di farla Se mi facci tutti quanti Nei commenti La farm di pesca Ragazzi è qualcosa Che fastidio È esagerato Però Sincero È esagerato Ma è inutile No secondo me No ti dico la verità Io sono morto Ok E io non faccio Cioè tutti dicono Fai le cose increative Eccetera eccetera Sai che non sono una persona Che piace fare cose increative Per una volta Ho avuto il piacere Di usare questo tipo glitch Perché effettivamente È un glitch Sta cosa qua Cioè non è una cosa Che teoricamente Si potrebbe fare Ecco mettiamola così È più glitch quello Che la farm di under dragon Ok Mettiamo Facciamo una crafting table La crafting table La mettiamo qua Che può sempre servire Guarda Facciamo così Dove cazzo È il piccone Eccolo qua Oh piccone Sci Facciamo così Poi facciamo doppia chest Sbam E sbam E proviamo Proviamo a vedere se funziona Dove lo facciamo il Ok Chiudo Aspetta Togliamo se torci un attimo Massimo Ne mettiamo una qui Però Allora Bisogna salire un attimino Aspetta Dammi dei blocchi Salgo io Salgo io Ti butti Guarda su Vieni Tipati Ok Senti i ragni Li senti i ragni Ok Tu in teoria Tu in teoria basta Però vedi che hai illuminato Un tot dentro Eh ma perché ho spaccato Porco due Ok Sì 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 Sta funzionando Eh non lo so Sai Ti prego Vai vedere giù Ti prego Vai giù Aspetta che ti buco Aspetta No no io faccio Tipo Perché fai così Fa niente C'era tanta gente Eh non so Guarda io li butto giù Vai Tipo 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 Figa C'ho già 8 pezzi di gunpowder Guarda qua Guarda qua L'efficienza Ragazzi Secondo me Il problema Era che Quella da 2 Non funzionava più Ok Secondo me Questa da 3 Funziona meglio Per il semplice fatto Che hanno più Area di spawn E sicuramente Il fatto che le botole Abbiano anche un centro Dove loro possono cadere Può essere anche Quello Non si sa Essenzialmente Tu dove la tieni La parte di Fk Vai stai sopra Stai No io in realtà Dipende Cioè dipende Che Se è tipo il mob grinder Che ho a casa Quello triplo Gli sto a fianco Se è invece Quelli della zona Super mob farm Sto in mezzo a tutti i eventi Ok io mi piazzo Qua sopra magari Vediamo un po' Sto a Fk Ragazzi Sto a Fk Tipo Quarto d'ora Intanto che Marco Deva andare via E vediamo un po' dopo A quanto siamo arrivati Allora ragazzi Mi trovate da solo In questo momento Perché il buon Marco Se n'è andato Semplicemente ragazzi Ho perso l'ultima clip Che ho fatto con lui Nel quale dicevamo Sì la farm funziona E invece ragazzi Non l'avrei caricato A prescindere Quel pezzo di parte Perché la farm Non funziona C'è proprio un problema Di fondo Nel mio server Però ragazzi Ho provato ad ovviare In qualche modo Cosa ho fatto Ho creato un'altra E un'ulteriore farm Di ferro Di Scusate I mob sopra Ok Tantissimo sopra Ma la faccio vedere Allora ce li ho I firework Ne ho 45 Non li usate Prima peraltro Allora buttiamoci Guardate un po' Ne abbiamo veramente Ok vedete C'è proprio un'altra farm Qua sopra E questa farm ragazzi Semplicemente Dovrebbe funzionare Ok Dovrebbe funzionare Meglio dell'altra Se vado qua dentro Deve esserci dei mob Vedete ci sono già Dei mob qua dentro Non capisco Per quale strano motivo Quella sotto Non li fa spawnare Cioè ci sono Ma non ci sono Essenzialmente Vi faccio vedere Guardate un po' Guardate che purtroppo Un pochino spawnano fuori Dovremmo fare il tubo lungo Ma avevo finito il ferro Raga Semplicemente Quindi non potevo fare granché Ad ogni modo Guardate un po' Scendo da questa parte qua E vi faccio vedere una cosa Guardate un po' Se io scendo qua Guardate quanti mob ci sono È mega pieno Ragazzi in questo caso La farm era mega piena Ma quando non c'era L'altra farm sopra Risultava sempre vuota Quindi non vorrei che Il fatto che In questo caso era piena Fosse dato dal fatto Che c'era l'altra farm sopra Boh Ditemelo voi nei commenti Non so non lo datate Ma è mega pieno Guardate Avete visto È pienissimo Cioè è mega 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 pieno L'unica cosa È i mob non cadono Cioè i mob non vogliono cadere sotto Sta cosa non riesco a capirla Non me ne capacito Non riesco a capire il motivo Però comunque A linea di massima Funziona Abbastanza bene Diciamo che Funzionicchia Ok Perché sono rimasto FK Nel mentre editavo il video Considerate che il video Durava tipo 35 minuti E niente Questo è quanto Sono riuscito A ricevere 31 pezzi di gunpowder Non sono male ragazzi Non sono per niente male Va benissimo Io adesso Proverò a stare qui A FK E magari domani Vi terrò aggiornati Un pochino Su Instagram Quindi seguitemi Su Instagram Che magari vi farò Un piccolo aggiornamento Di come siamo messi By the way Funziona Cioè Stavolta va Forse l'ho fatta troppo in alto L'altra può essere ragazzi Perché è veramente tanto in alto Rispetto alla prima che abbiamo Però Sembrerebbe dare una mano Questa cosa qua Non si riesce a capire bene Non si riesce a capire Senzermette Perché se io scendo qua Ragazzi Vi ripeto I mob ci sono Guardate qua c'è uno scheletro Lì c'è uno Ci sono dei creeper Vedete Qua cadono tutti Guardate Adesso li facciamo cadere tutti Guardate Facciamoli cadere tutti E dai E tu magari devi morire Ok vediamo un po' Se riescono a morire E non cadono diretti Vedete Cade diretto Perfetto Dai cadi Ce la fai a cadere Guarda Quello lì si salva Purtroppo Se facciamo il tubo completo Ce la facciamo Se non facciamo il tubo completo Purtroppo perdiamo un pochino La possibilità Di avere alcuni mob in più Però Oh raga Va bene anche così Per carità Non mi lamento Tanto Stando FK Dovrebbe funzionare Abbastanza bene Adesso Fatemi cambiare sta roba qua Perché fa cagare da vedere Ok guardate un po' Se è uscendo qua Dovrebbe esserci un tot Di gente Ed effettivamente così No raga Ho fatto la cazzata 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 Ho fatto Raga mi devo buttar giù Sono morto Mi sono salvato Sono morto Grande Marci Complimenti Sei proprio il migliore Te lo dico Con il cuore O Mannò O hai A A A A A A A B